Ego, come gruppo, hanno realizzato questo filmato a lumi di candela. Questa è la copertina che è una cosa che va votata in base per le lezioni speciali o meno. Domani a mezzanotte. Ma io, siccome ho già parlato, devo stare qua in Italia adesso? No, ma no, se ne ho parlato. Dove vi facciamo la menina? Gli chiedo, perché sono tradizioni che chi non vive a noci non sa che a noci si mangia... Tu sei di noci? No, di Rubo. Di Rubo? Sì, a 90 chilometri da qui. Rubo si chiama? Rubo di Puglia. Rubo di Puglia? Sì, sì. E voi a Rubo mangiate con le candele dal cimitero? Sì, una volta. È tradizionale? Sì, sì. E quando siedi fuori levate le scape per andare al bagno? Esattamente, puoi stare comodi, sì, sì, sì. O hanno tradizioni giapponesi, magari. Eh sì, adottiamo anche noi per igiene, diciamo. Sì. E come è nata la storia qui? Era un'esperienza personale? Sì, vabbè, qui volevo partecipare da tempo ma non riuscivo mai per impegni. E poi, in genere, giro delle cose molto serie. Però ho voluto scrivere questa cosa un po' divertente per rendere omaggio alla figura dei nonni, che per noi sono molto importanti. E nonostante molto spesso sentiamo la mancanza dei nonni che non ci sono più, ho voluto creare un dialogo divertente con un nonno. E questo non, in realtà, è veramente molto in quella data lì, a febbraio del 2014, sì? No, quello in realtà è mio padre ed è vivo, è vivo. Ah. Tocchiamo, in inglese non tocchiamo quello, tocchiamo ferro. In realtà, tocchiamo ferro perché... No, scherzo. No, ok. Però sempre divertito. Sì, sì. Lui ha visto il filmato? Sì, sì, sì. E cosa hai detto? Eh, si è divertito tanto. Non aggirarlo perché avevamo un pochissimo tempo e quindi c'erano 40 gradi a Ruvo. Non c'è alla regia. No, però, no, qua non può stare nessuno perché nello specchio ci vediamo. Se noi vediamo voi due due... Non lo specchio è battuto qua, non ne so, eh. Aspetta, rimanere così. Ma io devo uscire o devo suggerire soltanto? No, suggerisci, rimani là. Ah, non devo uscire, non devo apparire per niente? No, insomma... Però è piaciuto la... Molto, molto, molto. Sì, 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 sì. E cosa vuoi dire come hashtag? È un gioco di parole. È astuta candela. Astuta? Sì. Astuta candela. Significa una candela che è furba ma è anche una posizione erotica. Poi non vedi che mi genutico è perfetto? No, grazie. E comunque siamo sempre sulle candele. Esatto, sì, ce lo siamo giocato tutto sulla candela che è furba, è una candela astuta. Dico qui nella spazza. Cioè, super perché io questa soglia la vedo. Quindi questa porta va aperta, chiusa e tenuta. No, però lo fa. Va così come sta. Ah, perfetto. E io qui, a Maligranchio, al momento lo scostaranno per essere fatto in questo senso. Io qui qua... Ancora un altro po'. Sì. Perché allora... Ah, così. Non ci rendiamo conto che voi italiani avete questa tradizione di mettere delle candele anche elettriche accese nel cimitero. Perché? Why? Perché sembra un'astronave. Se uno non sa che in Italia abbiamo questa tradizione di illuminare 24 ore le nostre... Penso che sia riguardo alla continuità della vita, un omaggio, comunque un'anima. Oppure il passo next to resta e dice, oh, siamo noi. Eh, sì. Dai, perfetto. Tipo un tropsalco. Sì, sì, sì. No, perfetto. Allora, grazie tanto. Grazie. Grazie. Grazie a te. Salute a lungo. Sorry, allora, bravo, bravo. Guarda, lì è così bravo qui.